L'entusiasmo di Aldo, il girovago, ogni giorno scopre località della Valtellina sempre più belle, sempre più interessanti. Qui c'è anche una bellissima storia. Prima vi fotografo bene come è predisposto questo paese, in linea, si può dire, quasi orizzontale. Si chiama il paese con nome esatto, Montagna, con la M maiuscola. Guardare com'è bello, ci sono montagne innevate, però c'è anche qua la neve, al parco giochi dei bambini. Sono in altezza tra i 500 e i 600 metri, il paese ve l'ho detto, Montagna. Guardare quella chiesa là e poi adesso vado a scoprire anche la storia dell'arte. Poi qua ci sono i vigneti dove sono stato prima con un ragazzo che mi ha spiegato tutta la storia di questo paese. Mi ha detto che c'è il castello, Grumello. Adesso infatti vado a cercare di qua il castello denominato con quel nome lì. Mi ha spiegato che ci sono anche due torri in quella montagna di fronte dell'epoca passata, ma di tanti secoli fa. Io in questa altezza non li vedo, proverò andare su al castello per vedere questi torri del passato dove emanevano dei fumi all'epoca quando arrivava il nemico. Così mi ha spiegato. Poi io di storia dell'arte capisco qualcosa, però ciò che mi attrae in questo momento è la particolarità di questo paese dove fa villa la mia vista in un occhio bellissimo. Il cielo è sereno. Sono al paese montagna, sopra sondrio. Sono arrivato comodamente col bus, ma tra poco, tra poco, vado al castello Grumello. Poi qua c'è da vedere questa bella chiesa, bellissima questa chiesa qua, che al momento non mi ricordo il nome, me l'hanno detto, solo che mi hanno dato un sacco di notizie così tutte all'improvvise che la mia mente non riesce a percepire, tanto che sono contento di essere in questo luogo della Valtellina. C'è una bella fontana fresca dove scende l'acqua, già bevuto. Ora sono qua in questo bel piazzale e poi vado anche là alla parte più vecchia del paese, montagna.